C'era una quantità di persone veramente elevatissima sabato 18 maggio 2024 a Milano precisamente in piazza Giovine Italia dove pensate che grande Max Pezzari che ha fatto parte della Band 883 ha firmato il suo nuovissimo meraviglioso comic book dal titolo Discoteche Abbandonate. Ha letteralmente incontrato i tantissimi fan presenti in loco, ha firmato ovviamente le copie quindi il suo comic book e tutti sono rimasti veramente soddisfatti nel guardare e nell'apprezzare il mitico Pezzari quando hanno ricevuto l'autografo o meglio la firma da lui stesso, un po' uno dei personaggi di Cardin per quanto riguarda la musica italiana e per quanto riguarda la sua grande nonché immensa bravura. Compete dunque a grande Max Pezzari il cantante di Deremo per eccellenza che ha fatto parte per molti anni degli 883 questa band italiana per eccellenza. la band vede visiva a commentare ciò che